Chiare in testa. Chi è figlio di latifondista? Medico? Notaio? Avvocato? Impiegato? Farmacista? Talente dei carabinieri? Sedetevi nelle banche di destra. Chi è figlio di operaio, contadino? Sedetevi a sinistra, su. Adesso, mi sembra senza banco. Chi sei tu? Teglia Michele. Si dice Michele Triglia. Non è un verbale questo. E prendi un banco di là e portalo di lì, su. Allora, quelli a destra si leggono il primo libro dell'Eneide, mentalmente in silenzio. Gli altri invece lavorano con me. Adesso, leggiamo pure noi l'Eneide, eh? Non ancora, Triglia. All'Eneide ci arriviamo dopo. Prima leggeremo questo. Perché ricci un po' l'Eneide. Ho scritto un gruppo di ragazzi come te, insieme ad un insegnante molto meglio di me, contro una professoressa molto peggio di me. Posso passare anche io là? No. Io passo lo stesso. Luisa era poco più di una ragazzina, ma pure lei era elbe, come la mia 500. Chi sei tu? Luisa Corleto. Cosa ha fatto tuo padre Luisa Corleto? È il sindaco. E non vuoi diventare sindaco anche tu? No. Io voglio diventare cattiva. Che mestiere è? È il mestiere di cattiva.